Eccoci, 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 eccoci. Reveal, 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 reveal. Affermate le subbonate. L'ho staccato le pubblicità, raga. Ok. Levate. Allora, queste... Oh, che cos'è? Bellissimi! Ah, geniu c'è. Allora, geniu c'è. Calmi, 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 calmi. Geniu c'è. Gulber e com! Belli? Assist, giusto? Sì, dovrebbe... No, Sambo, vediamo. Per forza. Mi sa che sono tag, raga. No, ma per forza assist, ma che... Qua si sono tag... Tag è la prima volta che fanno una roba del genere. Ragazzi, ci sono due segni. Bellissimi gli artwork, raga. Bellissimi. Però sapete una cosa? È strano perché di solito loro scrivono tra parentesi assist. Eh, però è vero. No, no, lo specificano proprio. Sì, mi sa che sono tag? Comunque... Sì, quanto sono belli, raga. Comunque quel geniu là, raga, è molto, molto, molto amico. Sono veramente belli. Emo? Eh, fermo in atto. No, non è LF. Non è LF? Quindi un altro spazzino ancora. Vabbè, vabbè, vabbè. Altro Vegeta. Vabbè, scambia sti corpi. Scambia di veloce. No, mi... Daga, il Vegeta, raga. Mi sa che è Vegeta Goku. Eh... Vediamo un po'. Oh, bro, il Revive. Oh, c'era Vegeta. Oh, il Revive. Ma il Revive, bro. Alla Revive, tipo, è in Goku. Sto male, se è così sto male. No, vabbè. No, eccolo, raga. Eccolo, è lo sapete. Ma, raga, che spettacolo è. Alla Revive diventa Goku. Oh, ma sapete che quel Vegeta mi sta facendo venire seriamente il dubbio sulla catta Vegeta Goku? Ragazzi, oh my gosh, raga, raga. Me l'hanno predicate nel chat questa roba. Ma è fantastica sta roba, ragazzi. Qualcuno ha predicate, non mi ricordo chi. Oh, aspetta. Che cos'è? Oh, cosa è? Che cosa lo fa? Oddio. Ah, ma è tipo cos'è la Revive? Che cavolo è? Boh, magari se fallisce, non lo so. Boh. Tipo quella di Roshi, se fallisce, boh. Bro. Bellissimo. Tag. Aspettate, ma non su assist allora. Tutti i tag, raga, tutti i tag. Mamma mia. Oh, madre di Dio. Oh, madre di Dio. Spettacolo. Mh. Porca miseria, boys. No, che è sta sgommata terrificante. Che è sta sgommata? Era da me, da me. Fast and Furious. No, l'LF è la fine di paese, ragazzi. Ok, ma LF, Gino, non ho capito. Eh, non ci hai capito. Non penso, raga. Ma scusate, io ne sto capendo. Belli. Oh, colori diversi, boh. No, mamma mia, ma che... C'è il verde, i tag switch hanno proprio. Spettacolo. Raga, spettacolo. Sono Broker in cunno, tutti i tag switch. Ma spettacolo. Ma sono tag switch o no? Gokuzza è loro. La squadra Gignotto sui colori. In un team. No, ragazzi, impazzisco. In tre personaggi. Bro. Ma scusate, ma non ci hanno... Non sono un po' diversi dalle solite tag switch. No. No, no, sono come Gokuzza. Vediamo un attimo. Esatto. Sì, ma non hanno mai dato l'info così. Non me le ricordo così. Sì, ma sono Gokuzza. Bro, ma questi, questi impazziscono. Se non lo fa leggendo, tipo. Si coprono full colori, si coprono. Eh sì. Con due personaggi full colori coperti. Che spettacolo. Ma ragazzi, assurdo. Ivan, levati in mezzo. Leva, leva. Folli, folli. Allora. Allora. Andi questo in calcio. Recupera vita mandando semi-strike. Meno 15 ai tipi di gove dell'avversario. Recupera HP anche quando l'avversario lo hita. Figo. È tipo hit. È come hit. Recupera un botto da HP. Sì. Eh, ragazzi, ma non è tutto, secondo me. Cioè, aspettiamo un altro. No, ma è pochissima roba, sta. Non ci sono percentuali, però, letteralmente. Tranquilli, ragazzi. Sì, cazzo. Ma questa è la prima volta che fanno le animazioni differenti sulle tag switch, raga. Eh, vediamo, però. Perché forse ci hanno forviato un attimo. Ma? Stranissimo. Ah, questi cretano pure, raga, mambo. Chia, sì. Blast armor, c'è, recup, ragazzi. Raga, recup, 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 recup. Ma io non mi sto facendo caso. Sì, abbiamo fatto verde, guldo, giusto, giallo, genio, rosso, genio e barter, blu. Ma bellissimo. Non ho senso, boys. Non ho senso. Cioè, bro, metti con tuzza leader, hai... Cioè, bro, metti con tuzza leader, hai full colori o doppio blu per Vegeta. Mamma mia. Mi sento male, bro. Nuovo best team della vita. Questa roba è bro, Ken. Ma in tutto questo non c'è la Legends Limited al momento. Eh, vediamo se è genio. Ma non credo. Non è affatto nessun legendary finish, è dubito che sia Legends Limited. Eh, ma... Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. È ultra, ragazzi. Siete pronti a sentirvi male? Ah, per il momento possiamo dire che sono abbastanza hypanti questi qui. Mamma mia. Mi sono casando come una bella. Sono bellissimi. Recuperano il gauge del 70% con lo switch. Aia. Cosa? Cosa? Questa roba è stata la legge, non si capisce una sega. Dobbiamo vederceli dopo bene, raga. Mamma mia, che bello. Hypatissimo, come non mai. 14 le sfede del drago. Mai, bro. Vediamoci qualcuno a Brust Armon. Con la sfera di uno. Chase e Burtr hanno il loro unico aspecto e gli effetti potenti. Chase sarà buffo con il damage inflicted e anche draw special move arts, depending on the number of strike and blast arts hits. While Burtr will boost own art card draw speed, millify special cover changes, e recover 70% di tempo. Anticover, card draw speed. Dopo questi ci dobbiamo leggere per bene, questi qui. Sì, sì, con molta calma. Se qua sapete cosa mi sembrano? Sì, sì. Mi sembrano i gamma più forti, però. Non credo, lo vediamo. Non è l'F, non è l'F, non è l'F, aspettate. Normalissimo. Non è l'F. Ed è Revival. Ah, 30%! Raga, 30% di possibilità di fare Revive. What? Sì. Ma come? Ma perché? Ma che cazzo? Ma che cazzo è? Estrodolento, c'è una frode questo essere. Capitan Frode, no! Non sarà una complete file. Oh, Dio! Ah, ma quindi dite che... Aspettate, no, c'è un... Dite che... Fermi, fermi. Dicono che ci sono un po' di modi per aumentarsi la percentuale di successo. Fino al 100%. Sì, 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 sì. Ma quindi la rana, probabilmente, è la... E, diciamo, la Revive fallita. Esatto, sì. Ma è fighissima, ragazzi. Allora, al di là di questo, potrebbe essere una frode come no, ma è fighissima come cosa. Vediamo, raga, vediamo. È una figata totale. Allora, guardate. Attivi la main ability più 20%. 10... Mangia segni una speciale 1 più 10%. Vabbè, si fa, dai. Carta verde 10%. Ma, raga, sì, sì. E per tanti di Gini Force, esatto. Ci sta, dai, va bene. Fai un Vanish più 15%. Ma sì, raga, a voglia. Eh, si fa. È tutto non cancellabile, quindi, dai, si raggiunge tranquillamente il 100% di Revive. Bombissimo, raga. Però è una figata. Però è una figata. È un 95% e perdere l'evaldo. E fallirla. Sì. E diventare una rana. Cioè, allora, l'unico modo per avere quel 30% chance di fallimento, anzi, quel 70% in realtà di fallire, più che altro, è solo che uno non lo fa giocare. Lo fa subentrare, si acchiappa una botta, una ultimate terrificante. Eh, sì, gli mandi un rush. Esatto. Raga, però... Esatto. Però sta unique puzza di pisciolo, eh? Boh, secondo me, no, vediamo il resto. Ma che color era, scusate, è verde? Qual era? No, è viola, è viola. Viola. Tutti c'hanno i colori loro. Oscura, oscura le carte quando colpisce di special move. È pisciolante, è pisciolante. Spero di pericolare chi. Da domani zeta power a profusione, mi raccomando. Mamma mia, ma che scherzo. Tutti sparti normali. Oh, e soprattutto, andiamoci a far mai gli equipaggiamenti, mu. Eh, sì, sì, sì. Eh, sì, mu tocca proprio. No, io, come vi dicevo prima, il doppio equip silver su guldore Q. Uh, bellissimo. Bellissimo. Eh, questo è bello, ragazzi. Madonna, ragazzi. Comunque ve la provo a predictare qui. Quel Vegeta che ho visto prima, ragazzi, potrebbe seriamente essere Vegeta Goku. Guardate, cioè, io l'avevo detto per scherzo, ma... Raga, raga, Frieza Ultra a fine reveal. No, a fine campagna, secondo me. Anche se, oddio, Vegeta Goku, io l'ho pensato come revive. Qua la revive c'è già con Genio. Eh, non lo so. Team Frieza Saga doppia revive. Comunque, raga, è un problema. Come li leggo di tutti in macello, mamma mia. Io, io, comunque, non l'ho letto più di tanto, Genio. C'è il Genio Goku. Eh, i sinergizzi sono benissimo. Bell'artwork, però, eh, mamma mia. Bello. Oddio, da me dicono che potrebbe esserci un altro burner, ma non credo. Quanto man... Eh, mancano... Sei minuti? Cinque minuti? Eh, vabbè. Sei minuti. Magari senza kit. La rana dietro. Oppure Zenkai di Frieza. Boh. Però senza LF non lo so. Ma vediamola. La sorpresina finale, eh? Ma sì. Ma vediamo, per forza. No Legends Limited, è possibile. Anche perché non hanno nulla a dirci ora. Un po', vediamo, in sei minuti, devono dirci qualcosa. Eh, sì, sì. Andiamo. On a side note, Legends Limited Super Saiyan... Oh, aspetta. Platino. Platino. Buff, buff. Che cazzo. Sì, vabbè, ok. Ok. Vabbè. Ah, non ci sarà l'Ultra. Ah. Non ci sarà l'Ultra, guys. Non ci sarà l'Ultra. Ma come? Ma come? Aspetta. No Ultra. Time to reveal. The new forces in Zimbabwe. Il bootcamp. Ah, ma che cazzo. The fuck? Cioè, scusatemi. Ma è finitela. Allora, ci ha appena detto che... C'è detto l'Ultra. Non ci sarà l'Ultra durante la Namek Saga o che... No, no. Non ci sarà l'Ultra qua. Ha detto che durante... Han detto che non ci sarà l'Ultra, faranno l'Ultra al mese. Esatto. Quindi probabilmente non ci sarà qua. E quindi l'LF? Però l'LF per forza. Ma l'LF per forza ci deve essere. Beh, sì. Forse non adesso, ma al posto dell'Ultra. E che bannere sarà domani? Step up senza l'LF? O godo, eh. Eh, ma è la tua. Se fanno l'LF è goduria totale. Raga, si può mettere Shallot e Nagy New Force. Bellissimo. Vediamo. Ok. Fa bene, dai. Tre minuti. No, no, mi sa che non c'è più niente, raga. Maronna. Manca poco. A meno che non facciano le solo animazioni e poi il kit dopo su Twitter. Comunque a priori gran cosa questa qui che lui abbia detto. Poi lo so che in futuro si smentiranno, però ha detto non abbiamo intenzione di rilasciare una Ultra al mese, comunque. Buono. Ah, vabbè, ok. Ok, ricompensa. Ah, vabbè. Buono, santa gomme, buono. No, ma non c'è neanche un raid. Eh, il raidino, cavolo, cavolo. Ma sì, il fatto che se hanno sparking normali può davvero fare tre quattordici, abbastanza facilmente. Bagno. Domani tutti a bestemmia. Croviz da power, pam, 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 pam. No, dai, tre minuti, tre minuti. Glacciatela. Uh, attenzione. Ah, ma il guanetto extreme uno l'hanno fatto vedere? Vabbè, poi è quello. Ma quelli ci cicciano dentro, magari nel banner, senza che ce ne rendiamo conti. Ah sì, saranno extreme così a caso. Oppure manca roba qua, manca la Legends Limited, oddio, mancano due minuti. Due o tre minuti. E chi finisce? Oh, è giù la dà. Buono. Bella la bonanza. E i gommini dove sono? Eh, non ne ho più io. Neanch'io. Vediamo. Ok, dai. Facciamo il ticcino quando c'è la bonanza. Alla fine frisa in qualche modo, secondo me. Abbiamo bisogno di gommini per otoshi. In Legends, you can't just power up characters. You'll need to get the best equipment you can to continue getting stronger. Va benissimo, bro, vai avanti. Next. Next, manca poco. Next. Basta! No! Basta! Non me ne frega niente, bello. Però non me ne frega niente, vai. Ultra space time rush line. Terino, ma non ci interessa. Così. Bro, fai next. Sto sudando. Fai sto next, porco. Io non so se sperare realmente in No Legends Limited o sì. Perché sapete qual è il punto? Se non fanno Legends Limited, seriamente, se il banner è quello lì, Io vi dico la verità un po' non so se pullare anche. Ma non lì, nio, ma che dici? Sì, io ci pullo di brutto. Ah, vabbè, quello sì, quello sì, però... È folle. Cioè, voi. Io non lo so. Ma capito che team è tutti i colori in un team solo. Se non sia gratis. No, gratis no, però. Legends Battle Royale Freeza Stanga. No, raga, niente. Niente, niente. Sta niente, raga. Finisce qua, così. E manca un minuto. Ma com'è possibile? Adesso proprio all'ultimo, l'ultimissimo... No, ok, sta finendo. Qual è il punto? FPF, dai. Fandeguio Zenkai. Qual è il punto? Suddividono... Suddividono e quindi il personaggio finale è la Legends Limited che riveleranno più là. Ah, non lo so, com'è, qual è? Sì, ma ci servono... Ah, è finito, è finito. C'è tempo per tipo 20 secondi qualcosa, ragazzi, ma non... No, c'è da finire il testo. Fammi questo schermo nero che poi diventa... Last announcement, Sandland Movie, ma vai a fuori... Ma vai a fuori... Ma vai a fuori... Ma finisce la posizione. Ma vaffanculo... Eh, c'è già... Ah, sì, forse mettono lui? No, che... No, lui, no. No, è un item. Madonna! Bellissimo! Vabbè, però, carino, dai, almeno... Mi fa anche abbastanza schifo per questo, eh. Dai, almeno... Insomma... Vabbè, non penso di farlo. Mi fa anche un po' schifino, raga, a me. Però... Ma com'è possibile che questa è la campagna degli 80 milioni e non c'è manco la Legends Limited? Ma non è... Aspetta, aspetta! Ce ne sarà l'ottima roba. Sì. Ah, o c'è lo scherzone finale o è questo lo scherzone? È il mio carattere, amor. È così, raga. Me? Per me uscire all'LF al posto della Ultra a fine mese. Ok. Goodbye, bro! Allora, andiamo un attimo su Twitter. Carichiamo un secondo. È finito così, eh? Ma che cavolo! Cazzo, non ti telepia! Ma che cavolo! Non ti telepia! Ora... non ti telepia!